Salve a tutti, oggi parliamo delle conseguenze della battaglia di Bovin in Inghilterra. La battaglia di Bovin, importantissimo conflitto del 1214, l'Inghilterra perde contro la Francia. La situazione che si crea in Inghilterra è quindi completamente opposta rispetto a quella che abbiamo visto sul territorio francese. Lì il re aveva aumentato in maniera esponenziale il suo potere dopo la battaglia di Bovin, proprio perché in questa battaglia, avendo sconfitto il re d'Inghilterra, si era impossessata anche dei territori che il re d'Inghilterra possedeva in territorio francese. Buona parte di quei territori erano passati in mano del re di Francia. In Inghilterra i baroni, cioè i nobili inglesi, si ribellarono approfittando della situazione di difficoltà e di debolezza nella quale si era venuto a trovare il re Giovanni Plantageneto, Giovanni Senzaterra, dopo appunto la sconfitta subita. Questa sconfitta è anche la ragione del suo soprannome Giovanni Senzaterra, proprio perché aveva perso moltissimi territori in Francia dopo questa sconfitta. I baroni inglesi, per dare un'aura di legittimità a questa loro rivolta, si appellarono alla concezione feudale dell'autorità. Che cosa si intende per concezione feudale dell'autorità? Beh, è semplicemente una concezione, come si può dire, di do ut des, il fatto che il sovrano, il signore nel rapporto feudale dava qualcosa al feudatario, al suo sottoposto e in cambio quest'ultimo dava qualcosa al signore e questo qualcosa era perfettamente scritto, era riconosciuto sia da una parte che dall'altra. Il signore dava un certo beneficio, il feudatario in cambio garantiva fedeltà, giurava fedeltà e garantiva aiuto, soldati e quant'altro al suo signore. Quindi c'era un rapporto ben definito, ecco, legalmente definito. Secondo questa concezione appunto i vassalli erano obbligati a prestare al loro superiore soltanto gli obblighi militari e finanziari concordati. Questo è molto importante. Coloro che non adempivano a questi doveri potevano essere privati del feudo, però anche il signore aveva degli obblighi nei confronti dei subordinati, in caso di pericolo, di conflitto, doveva garantire la propria protezione ai vassalli e soprattutto, appunto, come dicevo, non era autorizzato a chiedere loro nulla più di quanto concordato all'inizio. Ora, una simile impostazione finiva per entrare in contraddizione con la concezione sacra della regalità. Abbiamo detto che questi re che prendono il potere appunto a partire dall'anno 1000, diciamo poco dopo l'anno 1000, hanno bisogno di legalizzare, di giustificare la loro presenza, il loro potere, e lo fanno appellandosi appunto ad un discorso religioso. Noi siamo re per volere divino. Ecco, secondo a quest'ultima visione, questa visione sacra della monarchia, della regalità, il potere del sovrano non poteva conoscere limiti di nessun tipo. Il re era responsabile delle proprie azioni solo di fronte a Dio, che gli aveva conferito il potere, quindi, secondo questa logica, nessuno aveva diritto né di criticare l'operato del re, né a maggior ragione aveva diritto di disobbedirgli. Qualunque cosa chiedesse il re ai sudditi, aveva tutti i diritti di chiederla e i sudditi dovevano obbedirli. Invece i nostri feudatari non accettano, non accettano più dopo questa sconfitta del re, non accettano più questa visione sacra della regalità. Si appellano a una visione più antica, a una visione, come dicevo, feudale, una concezione feudale dell'autorità, una concezione all'interno della quale esisteva la possibilità di mettere in dubbio l'operato del sovrano, l'operato di qualunque signore. Colui, quel sovrano che chiedesse ai suoi vassalli più di quanto era stato concordato, si comportava in maniera illegittima, si comportava da tiranno e quindi non avrebbe più avuto diritto alla fedeltà da parte dei sottoposti. In pratica, il re d'Inghilterra, dopo questa sconfitta, perde prestigio, perde potere e i suoi vassalli ne approfittano per cancellare tutte quelle conquiste che i predecessori di Giovanni avevano ottenuto. La visione della regalità sacra da questo momento in poi in Inghilterra non ci sarà più. Che cosa fanno in pratica questi baroni inglesi, questi signori feudali inglesi? Decidono appunto di prendere il sopravvento su Giovanni e gli impongono di firmare, di concedere loro, di concedere all'Inghilterra, quindi di firmare la cosiddetta Magna Carta Libertatum, una solenne carta delle libertà. L'anno è il 1215, appunto l'anno immediatamente successivo alla battaglia di Bovin. Qual è l'importanza storica di questo documento che adesso poi andremo a vedere in maniera un pochino più specifica? L'importanza fondamentale è il fatto che il potere del re non è più visto come un qualcosa di sacro. È vero che all'interno della Magna Carta il re continua ad affermare di essere l'unto di Dio, il vicario di Cristo, quindi di essere re per diritto divino, ma sono solo parole perché poi la sostanza è che vengono posti rigidi e ben precisati limiti al potere reale, al potere del sovrano. Questo è fondamentale. Questi limiti sono stati definiti e questi limiti non si possono varcare. Per esempio, gli viene vietato di imprigionare, di mettere fuori legge, di esiliare un uomo libero senza un regolare processo davanti a una giuria di propri pari. Analogamente si faceva esplicito di vieto ai funzionari del re di confiscare cavalli, di confiscare carri, di confiscare legname ad un suddito del regno senza il suo consenso. Quindi vengono posti dei limiti al potere reale. Un altro punto importante è il paragrafo 61 della carta, detto clausola di sicurezza della pace. Il paragrafo 61 prevede addirittura la creazione di un apposito consiglio, di un'apposita commissione di 25 baroni, quindi di 25 nobili di sangue inglese, incaricati di sorvegliare il comportamento del re. Ora, vi rendete conto che questo va completamente a ribaltare la concezione sacra della regalità secondo la quale il re è il re per diritto divino e quindi nessuno può imporgli nulla. Ecco, invece in Inghilterra a partire dal 1215 ci sarà una commissione di 25 baroni che sorveglieranno l'operato del re. Al limite questa commissione potrà addirittura procedere alla devastazione delle proprietà reali nel caso in cui il sovrano non si fosse attenuto alle norma e avesse compiuto qualche abuso. Quindi, dopo la magna carta, il potere regale non riuscì più in Inghilterra a essere considerata questa autorità sovrumana e sacra, questo valore al di là del normale che in precedenza aveva posseduto. Invece, la monarchia francese, abbiamo visto, riuscì ad accentuare ulteriormente la propria sacralità. Abbiamo visto addirittura che un nipote di Filippo II Augusto, vincitore di Bouvine, sarà consacrato, sarà dichiarato santo. Per questa strada la Francia piano piano giungerà all'assolutismo, cioè a una forma di governo dove il potere reale è sciolto da qualunque controllo. Comanda il re, decide il re, il re può decidere qualunque forma di tassa, può mettere in prigione chiunque, può far uccidere chiunque, può decidere qualunque guerra, il tutto senza consultarsi con nessuno, senza che nessuno possa mettergli i bastoni tra le ruote. In Inghilterra, invece, a partire dalla battaglia di Bouvine, i rapporti tra l'autorità del re e i suoi subordinati assunsero un aspetto contrattuale, una componente di tipo contrattuale che non potrà mai più essere né cancellata né soppressa. Ma andiamo a vederli direttamente questi articoli di cui vi stavo parlando della Magna Carta. I due articoli che abbiamo alla pagina 48 del nostro libro di testo sono sicuramente più importanti, l'articolo 39 e l'articolo 61. Nel 39 si ribadisce, come vi dicevo, che nessun uomo libero potrà mai essere arrestato, imprigionato, multato o in qualche modo danneggiato se non ci sia stato prima un processo, un legale giudizio dei suoi pari, secondo la legge del regno. Quindi il re non può fare tutto ciò che vuole, non può giudicare le persone, non può condannarle, il giudizio del re non vale nulla se non c'è anche un giudizio da parte di un tribunale. E poi l'articolo 61, quello che vi dicevo, parla della costituzione del consiglio dei baroni. I baroni, si dice in questo articolo, elegano quei 25 baroni del regno che essi desiderano, i quali con tutte le loro forze debbono osservare, mantenere, far osservare la pace, la libertà, eccetera, eccetera, eccetera. E cosicché se noi o il nostro giudice o i nostri balivi, quindi uno qualsiasi dei nostri funzionari, commettiamo una mancanza contro chiunque in qualunque maniera, ovviamente il re parla al plurale, usa il plurale maiestatis e dice noi, ma quando voi leggete noi dovete intendere il re, se io re o uno qualsiasi dei nostri funzionari, commettiamo mancanza contro chiunque in qualunque maniera o trasgrediamo uno qualsiasi degli articoli di pace o di sicurezza e l'offesa è denunciata a 4 dei 25 baroni, non basta uno ma neanche tutti e 25, bastano 4, e quei 4 baroni vengano da noi, dal re, oppure da un nostro giudice, se noi, se il re appunto si trovasse fuori del regno e la portino a nostra conoscenza e chiedono che noi la ripariamo senza indugio. E che succede se noi o il nostro giudice non ripariamo immediatamente, se non correggiamo l'offesa entro 40 giorni dal momento in cui è stata portata a conoscenza nostra e del nostro giudice, e se noi o del nostro giudice, i suddetti 4 baroni riferiscono il caso ai rimanenti 25, i quali insieme alla comunità di tutto il regno ci danneggeranno e molesteranno in ogni maniera che potranno, cioè impadronendosi di castelli, di terra o proprietà ed in altre maniere che potranno, restando salvo ovviamente la nostra persona, cioè non è che possono uccidere il re, e quella della regina e dei nostri figli non possono senz'altro far del male neanche alla famiglia del re, sino a che al loro giudizio, quindi non è che proprio al loro giudizio, al giudizio dei baroni, saranno loro a decidere quando è sufficiente. Quando sarà stata corretta l'offesa, quando loro, i baroni, riterranno che l'offesa sia stata sufficientemente corretta, ripagata, a questo punto smetteranno di danneggiarci e ci obbediranno, ovviamente il noi è riferito sempre al re, e ci obbediranno come facevano prima. E non solo loro, ma anche chiunque presta, chiunque lo voglia, chiunque nel regno potrà prestare giuramento di obbedire agli ordini di questi 25 baroni e danneggiare il re, liberamente, senza che il re possa in alcun modo rifarsi con contro di loro. Quindi, come vedete, la Magna Carta è un documento fondamentale che ci dice come in Inghilterra stia entrando una mentalità contrattuale, anzi stia ritornando quella mentalità contrattuale tipicamente feudale, secondo la quale tra il re e i suoi sudditi c'è un rapporto paritario, un rapporto stabilito da un contratto ben definito che va rispettato. Invece in Francia stiamo andando, proprio a causa sempre della solita battaglia di Bovin, stiamo andando verso un assolutismo reale, quindi un potere totale del sovrano. A pagina 49 avete qualche notizia in più riguardo alla Magna Carta, in particolare mi interessa sottolineare questa parte, perché la Magna Carta è la prima formulazione di quel diritto dell'Abeas Corpus, letteralmente che tu abbia il corpo, che è un atto tipico, è il principio fondamentale della legislazione inglese e che garantisce l'inviolabilità personale e il conseguente diritto di ciascun imputato di conoscere il perché sia stato arrestato, che tu abbia il corpo, cioè se io ho ammazzato qualcuno ce l'ha il corpo, qual è l'oggetto del perché mi hai arrestato, qual è il motivo per cui sono stato arrestato e di essere giudicato appunto da un magistrato. L'Abeas Corpus verrà successivamente codificato dall'Abeas Corpus Act nel 1679, ma questo articolo che abbiamo visto, l'articolo 39 della Magna Carta è la sua prima formulazione. E poi l'articolo 61, questo potere regio che non è più totalizzante ma è appunto controllato dai baroni nei termini che abbiamo visto. Chi sono i destinatari della Magna Carta? Beh, una piccolissima parte dei sudditi in realtà, poiché la maggioranza della popolazione inglese in quell'epoca era composta da contadini e i contadini non erano liberi perché erano comunque vincolati ai feudatari che possedevano le terre e quindi appunto erano dei servi, dei servi della gleba, non potevano andarsene dove volevano, dovevano rimanere loro e le loro famiglie a coltivare quel pezzettino di terra. Quindi si rivolgeva in realtà a una piccola porzione della popolazione che sono i vassalli del re e gli uomini di condizione libera. La Magna Carta fa parte anche del nostro programma di educazione civica, infatti è uno di quei documenti che, come vi dice qui nel vostro libro, hanno un significato che supera la contingenza storica, un significato che va oltre al momento storico in cui sono stati scritti e per questo sono in grado di parlare anche a noi oggi, di influenzare il pensiero e le azioni dei contemporanei ma anche dei posteri e quindi conoscere questi documenti è importante non soltanto a livello storico per approfondire la storia del periodo ma anche per conoscere meglio la nostra epoca, per conoscere meglio quella che è per esempio la nostra Costituzione. Anche la Costituzione italiana tutela i diritti inviolabili dell'individuo, è proprio nell'articolo 2 dei principi fondamentali e poi appunto questa tutela dei diritti dell'individuo è declinata più dettagliatamente negli articoli 13-18 della Costituzione. In particolare quest'articolo 13 che vedete qua sancisce proprio l'inviolabilità della libertà personale e il diritto di ogni individuo a non essere incarcerato né perquisito senza un apposito mandato del giudice e soltanto sulla base di una legge che lo consenta. Quindi si pongono dei limiti al potere dello Stato. In realtà come vi spiega nel nostro libro anche senza un provvedimento della magistratura in Italia è possibile limitare la libertà personale in due casi eccezionali. Se uno è arrestato in flagranza di reato e poi se una persona è sospettata di aver commesso un grave reato si può trattenerla per evitare il pericolo di una fuga. Comunque la legge stabilisce un limite temporale a questa carcerazione preventiva e qui vedete appunto l'articolo 13 che garantisce la libertà personale come qualcosa di assolutamente inviolabile. Ma torniamo indietro nel tempo e torniamo al 1200 in Inghilterra e vediamo qual è stata un'ulteriore conseguenza della battaglia di Bovin e della Magna Carta che appunto è la primissima conseguenza di essa. In seguito alla Magna Carta il peso assunto dalla nobiltà inglese fu ancora più evidente nella creazione del Parlamento. Il Parlamento nasce intorno al 1240-1250 come un organismo che ha il compito di affiancare il re nell'amministrazione della giustizia e soprattutto ha il compito di approvare eventuali imposte straordinarie. Questo è molto importante. Nel Medioevo avevano questa mentalità molto corretta a mio avviso secondo la quale ogni cittadino non voleva pagare, non avrebbe mai voluto, non avrebbe mai pagato una tassa diversa rispetto a quella che pagava il suo genitore. Si accettavano di pagare soltanto quello che avevano pagato anche i loro padri. Quindi le eventuali imposte straordinarie che ovviamente i re avrebbero avuto molta voglia di imporre dovevano essere approvate dal Parlamento in Inghilterra. Nel 1265 il Parlamento inglese pian piano venne ampliandosi con l'ammissione dei rappresentanti dei borghi e delle città. Quindi anche i borghesi, i ricchi borghesi cominciano a entrare in questo gruppo di persone, in questo gruppo di consiglieri del re che aveva visto la sua nascita proprio nel 1215 in quel piccolo nucleo di 25 baroni nominati come consiglieri reali. Il Parlamento cominciò a riunirsi regolarmente sempre a Westminster che ancora oggi è la sede del Parlamento inglese ma allora Westminster era soltanto un piccolo villaggio nei pressi di Londra. Nel 1339 poi il Parlamento si suddivise in due rami, le due camere ancora oggi esistenti, la Camera Alta, la House of Lords, la Camera dei Lords, composta appunto dai grandi nobili, dai grandi baroni, grandi feudatari e dai rappresentanti dell'Alto Clero. Non dimentichiamoci che c'erano anche i vescovi in questo Parlamento, nella House of Lords e poi l'altra Camera, la Camera Bassa detta anche Camera dei Comuni, la House of Commons, cioè dai rappresentanti che appunto era composta dai rappresentanti della piccola nobiltà, la cosiddetta Gentry, i rappresentanti della borghesia cittadina e i rappresentanti del basso clero. Ora nonostante il consenso del Parlamento fosse indispensabile, per tutto il basso medioevo i poteri legislativi, giudiziari ed esecutivi restarono comunque nelle mani del re che era affiancato da una corte ristretta di membri nominati direttamente da lui. Gli affari del regno erano affidati ad una cancelleria, cioè ad una segreteria che redigeva e riordinava le leggi, ad una corte di giustizia e dall'inizio del secolo, del secolo undicesimo, anche al Tribunale dello Scacchiere che aveva il compito di sovrintendere alle finanze reali. Comunque il Parlamento era un organo importante che veniva convocato ogni qual volta il re saltava il ghiribizzo di imporre nuove tasse. Su questo non si transigeva, le nuove tasse non potevano essere imposte se non dopo un'approvazione da parte del Parlamento. Bene, io ho concluso e per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione.